Perdendoci tutto il divertimento. Pioggia mortale! Perfetto! Da di fuoco! Puniti! A fuoco! L'infato è con noi! Tutto io ti dico al giorno di guardare la vita. Devo impedirlo. Non indietrinciate! Non indietrinciate! Troppo di massa! Senza tregua! Ce lo faremo! L'onione per la porta! Il fuoco mi dà forza! Possiamo farcela! Fotezza del fuoco! A girare il bersaglio! La tua morte si appiccina! La tua morte si appiccina! Che c'era la tua morte! Attaccate da ogni direzione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono mancata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti sei scontrato con mio padre. Ha preso mio figlio. Perciò io ripagherò tuo padre con la sua stessa moneta. Vieni. Scambierò mio figlio con sua figlia. Tu non conosci affatto mio padre. Tuo figlio, Baldr, suppongo, ha qualcosa che serve a mio padre. E se è così, il mio paparino preferirebbe vedermi morta che accettare lo scambio. Se vuoi riavere tuo figlio, per trattare ti servirà qualcosa di molto più prezioso di me. Io, sua figlia, non sono abbastanza. Allora non c'è motivo perché tu debba continuare a vivere. Esa, l'abbiamo trovato. Trovato cosa? Cosa avete trovato? Esa mi ha detto di non dirlo. Esa non è più qui. Io sì, l'ave di Asgard. Signore della furia. E tu stai rischiando di scatenarla. È un gra... un gra... un graffito. Esa crede che possa aiutarla ad accedere ad un antico deposito? È in una caverna. Per di là. In che surtra avrà vita? Mio figlio sarà suo prigioniero. Ma come si uccide chi non può essere ucciso? Se la morte non è un punto debole, lo sarà qualcos'altro. Il graffito che interessa a Esa dovrebbe essere in questa caverna. Esa crede che qui ci sia qualcosa di interessante. Devo scoprire cosa. L'occhio mi farebbe comodo ora. Lui è il suo fiuto nella caccia al tesoro. All'attacco! Uniscite i caduti! Devi avere la mia pietà! Oddio! Devo fare una nuova di guerra! Questa è la mia pietà! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posso provarci? Non sono molto pratico nel decifrare rune elfiche. Se è più pratico di me, dovrò accontentarmi. Nomina forse un antico deposito, una porta, un'entrata segreta? No, ma ha qualcosa a so dirti. Ecco. Due grandi montagne a nord, il sole e la luna in alto. Tutto qui? Spiacente, Aesir. Noi siamo solo un minatore, non esperti di cose scritte secoli fa. Non importa, mi sei stato di grande aiuto. Il deposito si trova tra due grandi montagne a nord. Dovrei cercare lì. Non è stato un minore. Dovrei cercare lì. Dovrei cercare lì. Dovrei cercare lì. Dovrei cercare lì. Dovrei cercare lì.